... Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Uccise la fidanzata Ergassolo annullato perché era stressato dal Covid e fa discutere la sentenza della Cassazione sul femminicidio di Lorena Quaranta. Turisti preoccupati per la carenza d'acqua, gli albergatori denunciano un calo del 25% di prenotazioni. Sabotaggi e incendi alla discarica di Bello Lampo per il presidente della RAP. Le ripercussioni saranno sullo smaltimento dei rifiuti, non sulla raccolta. Lo stretto di Messina, patrimonio Unesco, l'appello di lega ambiente che ribadisce il suo no al ponte. Se non ti porto, non parto. Al via la campagna della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali in estate. Calcio, un gol di Di Francesco, residuisce il sorriso al Palermo. Dionisi soddisfatto dei progressi visti con il Monza. Dal Lecce arriva il rosa nero Blin. In Serie C il Catania cerca rinforzi in attacco. Ravasio della Lucchese tra gli obiettivi. Fa discutere la sentenza della Cassazione che ha annullato l'ergastolo per l'omicidio della studentessa di Favara. Lorena Quarante, fidanzato, si legge nella motivazione, era stressato dal Covid. Vediamo il servizio di Adelaia Barbagallo. Continua a suscitare scalpore e polemiche la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato l'ergastolo per il femminicidio di Lorena Quaranta, la studentessa di medicina originaria di Favara in provincia di Agrigento. Si dicono addolorati e indignati i genitori della giovane strangolata in una villetta di Furcisiculo in provincia di Messina il 31 marzo del 2020 dal fidanzato, l'infermiere calabrese Antonio De Pace, che ha confessato. Precedente inquietante e pericoloso per le associazioni antiviolenza. Era stressato dal Covid, questa è la motivazione. Il femminicidio si verificò nella prima fase della pandemia ed è proprio a quel periodo particolare che per i giudici bisogna guardare. Nelle motivazioni si legge, i giudici di merito non avrebbero verificato se la specificità del contesto, il periodo Covid e la difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale. Questo è il ragionamento dei giudici e la Corte di Cassazione nelle motivazioni sulla decisione di annullare con rinvio limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche la condanna all'ergastolo per l'infermiere De Pace che adesso può contare sul riconoscimento delle attenuanti. La sentenza sorprende e continuerà a far discutere. Si aprono le porte del carcere per uno dei giovani coinvolti nella morte di Francesco Bacchi. Il 19enne è rimasto ucciso a gennaio davanti a una discoteca di Ballestrate nel Palermitano. Sentiamo Maglio Viola. Va in carcere ad appena 18 anni e nonostante l'accusa sia sì di omicidio ma involontario. È stato arrestato e trasferito dalla comunità di riabilitazione al carcere. Il giovane è coinvolto nell'omicidio di Francesco Bacchi morto lo scorso gennaio a 19 anni davanti alla discoteca Medusa di Ballestrate in provincia di Palermo. Si tratta di uno dei delitti della movida siciliana in particolare palermitana ma in provincia. Secondo le accuse il minorenne avrebbe afferrato per il collo Bacchi facendolo poi cadere a terra prima che venisse colpito a morte dai calci sferrati da altre persone in particolare da Andrea Cangemi. L'avvocato della difesa Maria Rizzo contesta però la ricostruzione della procura e del GIP. Il giovane avrebbe invece cercato di sedare gli animi durante l'arrista che era ancora nelle fasi iniziali. Nei mesi scorsi per questa stessa arrista erano stati arrestati altri tre ventenni che facevano parte dei due gruppi che si scontrarono all'esterno del locale prima che il tutto finisse in tragedia. Cambiamo argomento, turisti preoccupati per la mancanza d'acqua. Gli albergatori parlano di un calo del 25% di prenotazioni. Orazio Longo. Ma lì da voi in hotel c'è l'acqua nelle docce. L'idea di un terzo mondismo siciliano senza elettricità e senza acqua corrente fa breccia nelle domande di alcuni turisti stranieri che al momento di prenotare, senza ironia ma sinceramente preoccupati dalle notizie che compaiono non solo sulla stampa nazionale ma anche su quella d'oltrealpe e d'oltreoceano, sulla crisi idrica, sui blackout, sulla spazzatura e gli aeroporti con la cenere, per non parlare della criminalità, chiedono se effettivamente sia garantita almeno l'acqua corrente negli hotel. A denunciare il fatto sono gli albergatori preoccupati dall'andamento delle prenotazioni. A suo turismo parla di un calo del 25% ad aggrigento addirittura del 35%, per il mese in corso e il prossimo. Ma se è vero che, come spiega l'associazione, le vasche di compenso negli hotel scongiurano i disservizi per i turisti, l'emergenza idrica nell'isola non è però solo letteratura, è una mara realtà e neppure tanto nuova. Male incurato di vecchia data, da un lato addebitabile sia alla mancanza della materia prima, dall'altro alla cattiva gestione e alla vetustà delle reti. Attualmente i razionamenti sono presenti a macchia di leopardo, con la parte meridionale dell'isola a soffrire di più, nell'agrigentino con una riduzione del 25% della dotazione di acqua ai comuni forniti dall'acquedotto Favara di Burgio e una del 40% a quelli forniti dal sistema formato dagli acquedotti Fanaco, Voltano e Tre Sorgenti. A Sciacca una contrada è rimasta a secco per un guasto, mentre Lambi, l'associazione dei consorsi di Bacino, fotografa un'Italia tagliata in due, col centro-sud in secca e il nord traboccante anche troppo. Ma passerà anche quest'altra estate. Il sabotaggio alla discarica di Bello Lampo, il presidente della RAP, prevede ripercussioni sullo smaltimento dei rifiuti, ma non sulla raccolta. Intanto torna l'emergenza ai rifiuti in città. Marco Gullà. Impianti sabotati, ancora una volta emergenza alla discarica di Bello Lampo a Palermo. I danni sono stati scoperti dagli operai della RAP che hanno trovato alcuni perni allentati, la manomissione e sparizioni di alcuni componenti elettrici e danni al trituratore e inferti con una pala o forse un cacciavite. Un danno che potrebbe alimentare l'emergenza ai rifiuti nel capologo siciliano. Nessuna ripercussione sulla raccolta dei rifiuti, ha però detto il presidente della RAP Giuseppe Todaro, mentre ci sarà qualche ritardo sulla lavorazione. Una linea è ripartita subito, infatti, mentre l'altra speriamo di farla ripartire domani. Il presidente della RAP ha poi aggiunto, già siamo in una situazione emergenziale, adesso pure questi sabotaggi, ma io non mi arrendo. E in effetti le ripercussioni sono ben visibili in alcuni quartieri cittadini, con rifiuti che stazionano da giorni sui marciapiedi nelle periferie della città. Alcuni residenti hanno accatastato i rifiuti, anche straordinari, per sgomberare le strade. È una lotta, dice Todaro, ma se qualcuno pensa di intimidirci non ci riuscirà. Stiamo cambiando le cose, stiamo cercando di trasformare Bellolampo in una piattaforma tecnologicamente avanzata. 23 gli incendi divampati oggi in Sicilia, in quasi tutte le province, a Menfi in particolare. Le fiamme hanno lambito alcune case nel Catanese, fiamme a Licodia Ubea, Lingua Glossa, Ramacca, Roghi, anche a Piazza Armerina, incontrata mosaici del Casale della Villa Romana. 45 anni fa la mafia uccideva a Palermo il capo della squadra mobile Boris Giuliano, oggi ricordato il sacrificio del poliziotto che rivoluzionò il modo di fare indagini. Intuì come la criminalità stava cambiando volto negli anni 70, riuscendo a cogliere i rapporti tra Cosa Nostra e la politica. Palermo ha ricordato Boris Giuliano, il capo della squadra mobile ucciso dalla mafia il 21 luglio 1979, con sette colpi di pistola alle spalle da un killer, che una sentenza definitiva ha riconosciuto in Leo Luca Bagarella, boss corleonese cognato di Totorriina, il capo dei capi. Giuliano fu tra i primi investigatori a comprendere la necessità di seguire il flusso del denaro e degli affari per individuare gli interessi dell'organizzazione mafiosa. Il suo metodo investigativo, condiviso con una squadra di uomini a lui legatissimi, ha rivoluzionato il modo di fare indagini in Italia, come sottolineato anche da Giovanni Falcone. Alla commemorazione questa mattina hanno preso parte il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il questore di Palermo Maurizio Calvino e i familiari del capo della mobile. Per il presidente della regione, Renato Schifani, Boris Giuliano rappresenta un esempio luminoso di coraggio, dedizione e integrità morale. Commemorazione anche a Messina, città dove Giuliano ha vissuto e trascorso il periodo universitario. L'area dello stretto diventi patrimonio dell'umanità, l'appello di lega ambiente che ribadisce il suo no al ponte. Francesco Triolo. Salviamo la bellezza dello stretto di Messina, patrimonio dell'umanità. Questo l'appello che Goletta Verde ha inviato da Messina al termine di una tre giorni dedicata alla Sicilia, rilanciando così anche la candidatura dell'area a patrimonio dell'umanità insieme al comitato promotore, composto da oltre 200 persone tra cittadini, amministratori, uomini e donne del mondo della cultura e dell'università, liberi professionisti, associazioni culturali ed ambientali. Primo obiettivo l'inserimento dell'area dello stretto nella lista che depositano i governi dei paesi aderenti all'UNESCO, da cui attingono poi per avanzare la candidatura. Questo rappresenta il primo step da compiere, ma per inserire lo stretto di Messina in questa lista c'è bisogno di un atto del governo italiano, che Goletta Verde e il comitato promotore hanno sollecitato nuovamente. È un'area di un'importanza incredibile, con zone speciali di conservazione, con zone di protezione speciale, di grande interesse naturalistico, geologico, mitologico, culturale. Sono queste le vere risorse su cui puntare per rilanciare un'economia basata sulla legalità e sulla cultura. Forte è deciso anche il no al ponte sullo stretto, tema su cui Goletta Verde è tornata, esponendo sull'imbarcazione in navigazione lungo il tratto di costa tra Sicilia e Calabria, lo striscione, no ponte. Non potevamo chiudere la settima tappa della Goletta Verde qui in Sicilia senza ribadire il nostro no al ponte sullo stretto, a un'opera così folle, a un'opera che devasterà un territorio e che disunirà invece che unire. Un'opera come quella del ponte sullo stretto distruggerebbe una delle zone più belle, affascinanti, ed evocativi e mitiche della nostra Sicilia. Lo stretto di Messina, Scille e Cariddi, Colapesce, la pesca del pesce spada, questo luogo racchiude e raccoglie tantissima bellezza. Ecco perché invece di fare il ponte noi pensiamo che questo luogo deve diventare patrimonio dell'umanità, riconosciuto dall'UNESCO. E anche tutta politica, la polemica sulla fiction Rai girata a Stromboli, mentre il presidente Schifani prende posizione annunciando di voler intervenire sulla direzione Rai per chiedere di non mandare in onda alla serie, dopo che durante le riprese nell'isola divampò un incendio che provocò ingenti danni ancora non risarciti. Il ministro della protezione civile, Musumeci, esprime al contrario vivo apprezzamento alla direzione Rai, per aver deciso di inserire nel suo palinsesto autunnale la fiction dedicata alla funzione della protezione civile. Vorrei non si facesse confusione tra interessi pubblici e pur legittimi interessi privati, ha dichiarato Musumeci. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Se non ti porto, non parto al Via, la campagna della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali, soprattutto durante le vacanze estive. Giussi Lazzara. E tu che ci fai qui? Chi? Io? Se non ti porto, non parto. Abbandono degli animali soprattutto in estate, questo lo spot della Polizia per la campagna nazionale per combattere il fenomeno. Ogni giorno ci sono 127 animali lasciati sul ciglio di una strada o in una zona isolata. La denuncia dell'EMPA, l'ente nazionale per la protezione degli animali. La Polizia è così impegnata non solo a fornire soccorso, ma suggerisce come trasportare l'amico cane o gatto in sicurezza. Il codice della strada in questo è molto chiaro. Un singolo animale d'affezione può essere trasportato all'interno dell'abitacolo libero, a patto che naturalmente non interferisca con le attività di conduzione da parte del conducello. Più di un animale invece deve essere necessariamente trasportato nel vano posteriore, dotato di apposita griglia o rete divisore, altrimenti i più classici trasportivi. La Polizia con questa campagna ricorda anche che se si vede abbandonare un cane, di chiamare i numeri d'emergenza per avvisare le forze dell'ordine. Il regista Giuseppe Tornatore è stato l'ospite dell'ultima giornata del Termina Film Festival, con la proiezione del documentario Diario di Uttuso, dedicato appunto al pittore siciliano. L'epoca della grande attività creativa, così la definisce Giuseppe Tornatore, l'epoca di sciascia, buttitta, guttuso, il suo Renato Guttuso, quello del documentario che il regista di Nuovo Cinema Paradiso aveva realizzato nel 1982 e che è stato presentato a Taormina per la giornata conclusiva del Film Festival. Ma io non lo rivedevo da almeno 40 anni, per cui mi ha fatto un certo effetto. Intanto ci ho ritrovato tutti i difetti dovuti all'irruenza, della passione giovanile quando fai le cose, ma quello che mi ha proprio colpito è proprio quel mondo lì, loro, il grande privilegio che hanno avuto di vivere un clima che noi non conosciamo e forse non conosceremo mai. Il racconto di un personaggio, ma anche di un mondo completamente cambiato. Ecco, Uttuso parlava del suo rapporto con Picasso come se fosse un suo parente, però questo rapporto di parentela era un rapporto appunto fertile, un'epoca in cui la tessitura, l'aver vissuto insieme, un'epoca di attività creativa. Tu direi, ma oggi questo non c'è, c'è, però è diverso. Sta facendo molto discutere un articolo del New York Times che proclama l'America capitale della pizza di qualità. I siciliani saranno d'accordo. Francesco Allori. La pizza migliore del mondo è in America. Un'affermazione che sicuramente se eravate seduti vi avrà fatto fare un salto, ma non è nostra. A dirla è il New York Times che qualche giorno fa ha definito gli States capitale della pizza di qualità. La pizza è nata in Italia, per cui non penso che sia diventata l'America, la capitale della pizza. La pizza è quella napoletana, quella siciliana, la nostra pizza. Si tratta di un articolo che cerca di fotografare la rinascita delle pizzerie negli USA, attività che soprattutto tra i giovani stanno riscuotendo una pil sempre maggiore e che in un certo senso non sono più legate soltanto alla tradizione italiana. Ma di tutto il contenuto dell'articolo, quello che è rimasto più impresso agli italiani è il titolo. Hanno leggermente torto. Perché? Perché è la pizza migliore sicuramente in Italia. Siamo sempre noi i migliori, in assoluto. Lei cambierebbe la pizza italiana con quella americana? No, 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 no. Completamente. Non c'è paragone. Nonostante tutto, però, nessuno potrà mai cancellare le origini di sua maestà, la pizza. Nata a Napoli nel diciottesimo secolo, è simbolo di italianità nel mondo. Un mix di colori e sapori a cui è difficile resistere. Facciamo una buona pizza, usiamo una farina buona, lievito madre, tutto naturale. E allora, signore e signori, questa è la pizza italiana. Buon appetito. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo per parlare dell'amichevole del Palermo e dei movimenti di calciomercato. A tra poco. Siamo alla pagina sportiva. Vittoria in amichevole per il Palermo che a Temù ha battuto il Monza. Decisivo il gol di Di Francesco segnato nel primo tempo. Marco Gullà. Uno a zero e passi in avanti. Il Palermo vince l'amichevole contro il Monza, formazione che parteciperà alla prossima Serie A e inizia a registrare notevoli progressi. Se la sconfitta contro i dilettanti svizzeri aveva creato qualche malumore, il successo contro la compagine di Nesta permette al Palermo di riprendere il cammino. decisivo questo bel gol di Di Francesco segnato nel primo tempo. Da prendere non solo il risultato ma anche la buona prestazione difensiva. Tre più sottotono invece Matteo Brunori che non è mai riuscito a entrare in partita. Esordi anche per Nicolau e Derri. Siamo un pochino più avanti perché abbiamo iniziato prima. Infatti la partita precedente, la squadra svizzera era più avanti di noi a livello di condizione. Questo in queste partite può fare la differenza. Ma la differenza è stata quella che abbiamo fatto in fase difensiva e di questo sono molto contento. Fermo restando che è più facile quando giochi a una squadra più forte, che rispetti, che conosci. Lo dovremo riportare nella prossima e in campionato. E allora sì che ci divertiremo. Mercato è fatta per il centrocampista Blin che arriva da Lecce. Il capitano giallorosso ha deciso di scendere di categoria e dire sì al club rosa-nero. Nei prossimi giorni l'ufficialità per il centrocampo. piace anche Martegani del San Lorenzo. Difesa, De Santis non molla. Ferrari del Sassuolo. E il Catania prosegue la trattativa con Merola e sempre per l'attacco. Ha richiesto Ravasio alla Lucchese. Mercatofermo invece a Messina. Trapani su Tremolada. Sergio Colosi. Attacco, cessioni. Sono i temi attuali e futuri del Catania. Che prosegue la trattativa con Davide Merola. Va conteso soprattutto dal Bari, dove l'esterno realizzerebbe il desiderio di giocare in Serie B. Lo stuzzica però anche il progetto Catania. E l'offerta del club rossazzurro potrebbe vincere la concorrenza della società pugliese. Nessun passo in avanti per l'Escano. Mentre nelle ultime ore è circolato il nome della punta Mario Ravasio. Il cui cartellino è della Lucchese nell'ultima stagione. Protagonista con il sorrento di 12 reti in 38 gare. Seguito anche dal Taranto. Faggiano lavora tanto sugli esuberi. In ritiro presenti 21 calciatori dell'anno scorso. E almeno 12 dovrebbero lasciare il Catania. Ad alcuni proposta la soluzione della recessione contrattuale. Curado verso Pescara. Taranto di nuovo su Welbeck. Il ritiro del Messina Zafferana e Tenea inizierà a martedì 23. Sotto i peggiori auspici. Sciotto contestato ad oltranza. Trattativa lontana dal concludersi e un paio di calciatori in organico. In arrivo alcuni under. Il portiere Curtosi. Il terzino Pistolesi. Retrocesso con Fermana e Montegiorgio. E i centrocampisti Pedicillo e Anselmo. Il Trapani che presto potrebbe abbracciare il terzino destro Manuel Ricciardi. Cerca con insistenza il trequartista Luca Tremolata. In uscita dal Modena. Sarebbe il fiore all'occhiello di una buona campagna acquisti. È tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona serata. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.